Benvenuti, nostri cari follower, così il modello americano nel suo ultimo aggiornamento di questa sera conferma le aspettative e avverte fortemente del pericolo di forti tempeste e inondazioni che si formeranno nelle prossime ore e giorni, ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima per sostenerci con ammirazione per questo video e inoltre non siate avari e condividete il video e le informazioni con tutti a beneficio ed evitare il maltempo, così come potete vedere nella mappa tutte le regioni d'Italia da nord a sud sono colorate e questo significa forti piogge durante questa settimana e nei prossimi giorni, ma come si può notare il colore rosso scuro compare solo all'estremo nord, soprattutto nelle zone di confine con Francia. Svizzera e Austria oltre che sulle coste meridionali del mar Tirreno e anche nei banchi dell'isola di Sicilia e Sardegna, e questo significa che queste aree in particolare riceveranno nei prossimi giorni quantità di pioggia molto elevate, che potrebbero superare di molto la barriera dei 200 mm come tasso di accumulo e quindi la possibilità di torrenti e alluvioni in formazione è molto elevato e quindi è richiesta molta prudenza. Inoltre, i temporali si attiveranno fortemente in tutte le regioni d'Italia, da nord a sud, all'improvviso, quindi è necessaria prudenza. Buona questa settimana e altri dettagli, resta sintonizzati per loro durante i prossimi aggiornamenti e, alla fine, sei in buona salute.